Sul sipario, sulla stagione di prosa e danza del Teatro Petrarca, con lo spettacolo La Gatta sul tetto che scotta, il primo appuntamento del cartellone 2016. Venerdì 15 gennaio alle ore 21, a calcare le scene del Teatro Aretino, saranno i protagonisti dello spettacolo Vittoria Puccini e Vinicio Marchionni, affiancati da Francesco Petruzzelli e dalla retina Carlotta Mangione. Inaugurare un teatro è sempre un orgoglio, un onore, soprattutto di questo periodo in cui i teatri di solito chiudono in una città meravigliosa, piena di arte, di tutto quello che questa città è riuscita a fare nel corso dei secoli, appunto per la pittura, la scrittura, il teatro, eccetera, eccetera. Quindi è un grande onore essere qui e non vediamo l'ora di incontrare il pubblico a Aretino. Sono contento che la città abbia risposto in maniera così compatta rispetto alla stagione di prosa. Noi abbiamo venduto tutti i biglietti disponibili in forma di abbonamenti, questo ha creato qualche disagio perché chi non intendeva seguire tutta la stagione, ma magari solo uno spettacolo due ha trovato e troverà difficoltà a trovare biglietti, ma non impossibilità. Dei 50 posti che io ho messo a disposizione degli ospiti, prefetto, questore, insomma, le persone che devono avere un posto riservato in platea o nei palchi, non tutte queste persone sono presenti contemporaneamente a tutte le manifestazioni. Quindi i posti che residuano da quelle mancate adesioni, più quelli che le compagnie rinunciano, nel senso che ci sono dei posti destinati ad attività tecniche di scena, che quindi sono non utilizzati, non vendibili, saranno comunque messi in vendita. Quindi già da domani mattina, anche per questo primo spettacolo, ci sono, io uso un termine un po' generico, circa una ventina di posti disponibili tra platea e palchi per coloro che non hanno voluto prendere l'abbonamento per l'intera stagione.